God Save the Wine, siamo a farci gli auguri di Natale e siamo a trovare un vino perfetto per queste feste. Adesso cerchiamo di fare qualcosa di difficile perché chiederemo a Antonio Nunziconti qual è il vino adatto alle feste. Sicuramente il vino adatto alle feste è il mio occhiante classico. Ecco però, come dire, in feste dove si beve un sacco di... dove si mangia cotechino, lenticchie, il tuo accento ti tradisce un po'. Sì, io sono di origine emiliana, sono di origine bolognese, da noi si usa ovviamente durante il pranzo di Natale il tortellino con il bollito e lo zampone e diciamo che secondo me questo occhiante classico con il bollito e con lo zampone si adatta piuttosto bene. Tu vieni nella zona di San Casciano, no? San Casciano è precisamente la zona vicina alla pieve di Campoli, quindi vicina alla zona di Tignanello, di Santa Cristina degli Antinori e quindi quella zona lì. Una zona che è a circa 300 metri sul livello del mare. Il pedigree è molto alto, no? E quindi che tipo di vini ci dobbiamo aspettare? Sì, è molto alto ma poco conosciuto come chianti classico perché praticamente vicino a me, a parte gli antinori, non ci sono di fatto altri produttori vinificatori, se non in realtà molto molto piccole. E quindi è forse un chianti classico anche poco conosciuto come territorio, però molto famoso in passato per avere vini molto morbidi e molto bevibili. Quindi in questo momento il mercato chiede proprio questi, no? Vini che siano molto bevibili ma hanno anche una certa sua dolcezza perché troppo astringenti e aggressivi, magari alcuni amano la follia, ma in realtà il pubblico la maggior parte... L'ultimo due parole, facciamo gli auguri di Natale anche a questi animaletti che ci sono in etichetta, no? Che uno si ricorda. Come mai ci sono questi animaletti? Allora, questi animaletti ci sono perché i miei grafici, quando vennero a visitare l'azienda, io li portai il Vignelisa, che è il nostro vigneto crudo, diciamo, le cui uve daranno la nostra gran selezione di chianti classico. Ed è un vigneto molto bello ma completamente recintato. Allora mi chiesero come mai questo vigneto era recintato, io gli spiegai che purtroppo questi animaletti, tanto simpatici, ma fanno anche tanti danni ai nostri vigneti e quindi da lì poi è nata l'idea di raffigurarli e quindi di darle una certa importanza. Una specie di fotosegnaletica, cioè se li trovate... Perfetto, allora auguri per queste feste sia in Toscana che dalle tue parti a Bologna, comunque che antilassico. Altrettanto a tutti voi, grazie mille, arrivederci.